Mi sono segnalato il banché, Presidente. Sì, dopo la rinumerazione, che crea non poche difficoltà e lo spacchettamento degli emendamenti, abbiamo esaminato con attenzione anche i pareri degli uffici. Questo parere in particolare, come ha richiamato lei, Presidente, che è inerente all'articolo 49 del TUE per le espressioni di parere, il TUE recita che qualora il Consiglio voglia estrimersi anche con contrarietà degli uffici, debba darne la motivazione. Quindi la nostra motivazione è la seguente. Evidentemente gli uffici, nella loro espressione di parere contrario, hanno probabilmente frainteso il contenuto dell'articolo. Semplicemente perché l'articolo 16,3 del Regolamento del Consiglio Comunale entra nel merito di quali sono i poteri, le prerogative del Presidente d'Aula del Consiglio Comunale. Mentre qui si parla, appunto, in virtù degli emendamenti, di un comitato tecnico-scientifico che nulla ha a che fare col Presidente d'Aula. Il Presidente di questo comitato tecnico-scientifico sarà un'altra figura che non entrerà nel merito della promozione degli indirizzi istituzionali che fa il Presidente d'Aula, ma che semplicemente entrerà nel merito degli argomenti che verranno affrontati in questo comitato tecnico-scientifico che poi magari verrà definito in altro modo. Quindi probabilmente gli uffici hanno capito male, non c'è alcun contrasto, anche perché il ruolo del Presidente non è di coordinamento di questi attori istituzionali, ma appunto di promozione. E nulla vieta, e anzi è auspicabile, che il Presidente dell'Assemblea di Capitolina poi promuova gli indirizzi di tutti i laboratori tematici ed anche del comitato scientifico. Quindi nessun contrasto assoluto, e questo è il motivo per cui voteremo sì a questo emendamento. Grazie.